Esta es una demostración de lo que la IA, o Intelligencia Artificial, puede lograr en la actualidad. Waiu, qua siamo proprio alla fantascienza pura. Nel video di oggi vi faccio vedere come, grazie all'intelligenza artificiale, ormai possiamo doppiare qualsiasi nostro video in altre lingue, in lingue che non parliamo, con una qualità incredibile, soprattutto se pensiamo da quanto poco esistono questi strumenti. Questa è proprio fantascienza, l'abbiamo visto solo nei film di fantascienza, sta roba. Vi faccio vedere prima la clip che ho registrato in italiano e poi vi faccio vedere i risultati finali in quattro lingue. Ho fatto quattro lingue di prova, inglese, francese, spagnolo e tedesco. E poi vi faccio vedere anche un mini tutorial di come l'ho creato, con quale tool l'ho creato e facciamo anche qualche considerazione alla fine. Questo è il video demo che ho dato in pasto allo strumento. Questa è una dimostrazione di quello che l'intelligenza artificiale può fare oggi. Ad esempio, permetterci di parlare delle lingue che non conosciamo, di raggiungere un pubblico che normalmente non potremmo raggiungere. Ma vediamo anche se parlo un po' più velocemente, come faccio di solito nei miei video su YouTube, se l'intelligenza artificiale riesce a starmi dietro oppure se si perde qualche pezzettino per strada. Vediamo un po' il risultato finale nelle altre lingue. Come avete visto è una frase molto breve, di una trentina di secondi più o meno, perché il tool chiede almeno 30 secondi di video per poter fare poi la sua magia. Adesso vediamo quale è il risultato finale in inglese. Lo faccio prima con l'inglese, che è una lingua che parlo, così posso dare un primo feedback. Allora, l'inglese è un po' strano, perché all'inizio parte molto molto veloce. Non so per quale motivo, anche se la parte veloce del video è quella finale, non ho capito se c'è stato qualche problema di frame rate o altro, ma poi diciamo quando rallento un pochino la qualità è veramente elevatissima, elevatissima. Una cosa incredibile è che tiene il mio tono di voce, cioè nel senso quando ho ascoltato quella roba mi sembrava di sentire veramente me, o almeno il me dei video. Ovviamente l'accento non è il mio, perché se mi avete sentito parlare in inglese sapete che parlo con un marcato accento nel mio italiano, ma campano, però il risultato finale direi che potenzialmente è wow, porca miseria, veramente molto molto fico. Ovviamente c'è qualche problemino con il labiale, mi sembra di aver capito dovuto alla barba. Ma vediamo adesso il francese. Per il francese ho chiesto feedback a un amico francese e mi ha detto che il risultato finale è perfetto, mi ha detto che in un momento ha messo uno strano accento, mi sembra forse abbia detto canadese o qualcosa del genere, però ha detto che il risultato finale è veramente di qualità altissima. Si è sorpreso molto anche lui di questa cosa. Non parlo il francese, quindi non posso giudicarlo. Se parlate francese o siete madrelingua francesi, magari nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Adesso ascoltiamo il Tedesco. Anche il Tedesco ho chiesto ad un amico. Ho fatto la stessa cosa per ogni lingua, ovviamente, e mi ha detto wow. Prima mi ha mandato un po' di faccine che ridevano, ha detto il risultato finale è stato abbastanza che sta succedendo, però ha detto è fatto veramente molto 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 bene anche la qualità della traduzione. Per ultimo andiamoci a prendere adesso invece lo spagnolo e vediamo come sarebbe Raffaele Gaito in spagnolo. Esta es una demostración de lo que la IA, o Intelligencia Artificial, puede lograr en la actualidad. Per esempio, nos permette parlare di idiomas che non conosciamo, arrivare a un pubblico al che normalmente non potremmos arrivare. Vamos a ver se hablo más rápido, come en mis videos de YouTube, si la Inteligencia Artificial me sigue o se pierde algo. Veamos el resultado en otros idiomas. Anche per lo spagnolo ho chiesto ad un amico spagnolo che pure lui mi ha detto la stessa cosa, mi ha detto che è stranissimo sentirmi parlare in questo modo, ma è estremamente sorpreso dal risultato finale. Ovviamente ognuno di loro ha fatto delle considerazioni, così come l'ho fatta io sull'inglese, sulla velocità, sugli accenti, sulle cadenze, eccetera. Non voglio entrare nei tecnicismi, ovviamente se siete madrelingua, se parlate francese, spagnolo, tedesco, inglese, scrivete qui sotto anche la vostra sensazione o se volete darmi dei feedback, però di nuovo per essere degli strumenti relativamente nuovi, da poco sul mercato, questa roba per me è wow. Quando ho provato qualcosa del genere qualche mese fa faceva letteralmente cacare, adesso invece è super accettabile. Ho notato che c'è qualche problemina, qualche problemino con la barba, qualche problemino con gli occhiali, ho fatto delle prove anche prendendo spezioni di altri YouTuber o spezioni di film e se ci sono dei volti un po' più, non so come dire, con meno cose, che diciamo che danno fastidio proprio alle eye, la ricostruzione facciale viene molto molto più realistica, il labiale viene quasi perfetto, viene veramente quasi perfetto. Immagino che però, appunto, perché lo strumento è abbastanza nuovo, quindi questa cosa è normale, la barba, avete visto, fa un po' strano, le labbra qui è un po' strano, anche gli occhiali ogni tanto quando mi muovo fa qualche reazione strana, ma mi aspetto grandi progressi nei prossimi mesi. Ovviamente questa cosa è fuori di testa per quello che ci permette di fare a noi creatori di contenuti, ma prima di fare questa riflessione passiamo al computer, vi faccio vedere un velocissimo tutorial di come l'ho creato e di come lo potete fare anche voi e adesso facciamo anche qualche riflessione finale, ma prima spostiamoci al tutorial. Allora, il tool che ho utilizzato per fare questa cosa si chiama HeyGen, lo trovate a gaito.link slash HeyGen, vi lascio il link qua sotto, con il quale vi beccate due crediti gratis se volete fare delle prove per smanettarci un pochino pure voi, ed è un sito che nasce in realtà, uno strumento che nasce per fare i Talking Heads video, quindi video dove generiamo con l'intelligenza artificiale un volto, può essere reale o può essere filtizia, e poi lo facciamo parlare scrivendo delle cose. Facciamo login, oppure ci iscriviamo alla demo gratuita con il link che vi ho dato e ci troviamo dentro questa schermata. È una schermata piena di funzionalità, si possono fare un bel po' di cose e se volete possiamo fare anche un tutorial approfondito dove vi faccio vedere le altre funzionalità di HeyGen perché è veramente clamoroso. Vedete, qua possiamo fare i Talking Photos, quindi possiamo scegliere un personaggio, che ne so, qua ci hanno messo la Mona Lisa, ci hanno messo Harry Potter da grande, ci hanno messo altri volti fittizi, potete mettere una vostra foto, potete generare una foto con le eye, eccetera, eccetera, e poi farle parlare. Ma non è questa funzionalità quella che interessa a noi, noi andiamo in questa parte che si chiama Labs, dove ci sono le funzionalità sperimentali, che sono in beta, che sono state rilasciate da poco, e in partita dal mondo ci andiamo a prendere questa funzionalità qua, che si chiama Video Translate, che è l'ultima e è stata rilasciata proprio qualche giorno fa, nel momento in cui sto registrando. Video Translate è quello che vi permette di partire da un video in una lingua e trasformarlo in un'altra lingua. Clicchiamo dentro e vediamo che in realtà è super super semplice, qua ci sono tutte le prove che ho fatto in precedenza e che ho caricato e che vi ho fatto vedere. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo caricare un video e dobbiamo scegliere la lingua. Per il video ci sono delle cose a cui fare attenzione, il video deve essere massimo 5 minuti e massimo 500 megabyte, quindi occhio anche alla dimensione, e qua ci sono anche dei requisiti tecnici, quindi sul framerate, sulla risoluzione, eccetera, eccetera. Quindi fate attenzione a queste cose, altrimenti non funziona. Io ho fatto delle prove e in alcuni casi andavo in errore. In ingresso ci deve essere un video che deve essere una di queste lingue, tra cui vedete c'è anche l'italiano, e in uscita ovviamente non abbiamo ancora tutte le lingue del mondo, abbiamo, sono due, anzi no, questa è sempre inglese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi io posso caricare il mio... Vado questo qua, prendo video originale, per esempio. Il video originale è quello su cui ho fatto la prova, quindi in questo caso è in lingua italiana. Vado qua sotto, scelgo la lingua, quindi lo voglio in, che ne so, una che non ho fatto nelle prove, portoghese, faccio... No, questo non lo lascio, non lo clicco, perché non mi serve audio only, e faccio submit. Nel momento in cui fate submit, il video viene caricato e poi va in coda, perché ci sono migliaia di video convertiti contemporaneamente, soprattutto adesso che sta esplodendo questo strumento, e poi dopo un po' vi dice che è finito, lo potete scaricare, rivedere, e vi arriva anche una mail di promemoria. Quindi è veramente facilissimo, come vedete, ci vogliono tre click, apriamo, ci logghiamo in HeyGen, vi registrate con gaito.link.hegen, così avete due crediti gratis per fare delle prove. Andate qui sotto in Labs, poi andate in Video Translate, si apre questa schermata, caricate il vostro video, scegliete la vostra lingua, e poi mette Submit. Buona sperimentazione, e adesso usciamo dal tutorial perché voglio fare qualche riflessione con voi. Come avete visto è veramente facilissima questa roba, cioè siamo arrivati a dei livelli proprio di interfaccia, a livello di UX in generale, che sono veramente accessibili a tutti quanti. Se volete utilizzare anche voi il tool che ho usato io, che si chiama HeyGen, che non fa solo questo, fa tante altre cose, anzi se volete un tutorial lo facciamo pure approfondito, vi lascio il link in descrizione qua sotto, oppure potete andare a gaito.link, ve lo metto qua, gaito.link.hegen, così vi beccate pure due crediti per fare un po' di prove gratuite, e poi decidete se vi serve a livello professionale pagare. Quindi gaito.link.hegen, trovate il link qui sotto in descrizione, e fatemi sapere se vi interessa magari anche vedere le altre funzionalità di tutti i video AI che si possono fare, così facciamo un tutorial approfondito. La riflessione finale che volevo fare su questa cosa è che in quanto creatore di contenuti, questo potenzialmente abbatte delle barriere. Come ho detto nel video demo che ho registrato, immagino da qui a qualche mese di poter raggiungere, che ne so, tutto il Sud America, tutta l'America Latina, semplicemente facendo attraverso le funzionalità di AI dei video con me che parlano lo spagnolo senza dover conoscere quella lingua, ma semplicemente premendo un paio di pulsanti, anzi vi dirò di più. Io questa cosa mi aspetto di vederla integrata dentro YouTube, il prossimo step naturale per YouTube è questo, dopo aver avuto la funzionalità di mettere i sottotitoli in varie lingue automaticamente mi aspetto la figata di dire ok, ora converti questo video in spagnolo, convertilo in tedesco, convertilo in portoghese, convertilo in giapponese, e la persona che atterra su quel video, in base alla zona del mondo dove si trova, o all'impostazione del suo browser, vede il video direttamente nella sua lingua. E questa potenzialmente è una figata, perché significa che siamo tutti i competitor di tutti, il posto dove nasciamo, la lingua che parliamo non deve essere più una limitazione, io che parlo l'italiano e ho un pochino pochino d'inglese, lo parlo pure male, mi limito al pubblico che posso raggiungere con la mia lingua, nel momento in cui ho dieci nuove lingue, nella mia cassetta degli attrezzi, allora sono in competizione con lo youtuber olandese che parla bene l'inglese, con lo youtuber spagnolo che può parlare bene al pubblico sudamericano, con lo youtuber tedesco, giapponese, eccetera, eccetera. Questa cosa è fuori di testa. E poi ovviamente ci sono tanti altri utilizzi che uno potrebbe fare, infatti sul sito di HeyGen, vi ricordo, gaito.link slash HeyGen, il link è qua sotto in descrizione, potete vedere anche tante demo di come viene utilizzato nel customer care, nella registrazione di tutorial, nell'onboarding di clienti e di dipendenti, eccetera, eccetera. Ci sono veramente un sacco di chicche interessanti che si possono fare grazie a questo strumento. Fatemi sapere se volete vedere un tutorial più approfondito e se vi piace guardare questa roba qua, allora andatevi a vedere il tutorial di come utilizzare l'intelligenza artificiale dentro Canva, ve lo lascio qui così potete cliccarlo, perché ci sono tante funzionalità che avete tutti i giorni davanti agli occhi e non sapete che si possono fare cose fantastiche grazie a LeAi. Grazie.